Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un nuovo lutto colpisce il mondo dello spettacolo e, nello specifico, uno dei telefilm più famosi della storia, si tratta della signora in giallo che, dopo la scomparsa della storica attrice protagonista Angela Lansbury, perde un altro pezzo del cast. E' infatti morto, come riportato da The Hollywood Report, L86N Ron Masak che interpretava lo sceriffo Moore Metzger. A renderlo noto è stata la nipote Kaylee DeFilippis. Tanti i messaggi di cordoglio nei confronti dell'attore americano. Ronald Alan Masak, nato a Chicago il 1 luglio 1936, si è spento a quasi 90 anni in un ospedale di Thousand Oaks, California, USA. L'attore è morto per cause naturali, dunque non si è trattato di un incidente né stato stroncato da malattie particolari.